Un aiuto per le persone con disagio fisico, psichico, ma anche per i ragazzi a rischio devianza. Sarà questa la mission della fattoria sociale Terra degli Olivi inaugurata a Ruvo di Puglia nell'ambito del cartellone di eventi Invasioni Rurali e realizzata grazie ai finanziamenti del gruppo d'azione locale Fior d'Olivi. La struttura è edificata sulla provinciale che unisce Ruvo ad Altamura in una zona incontaminata e circondata dagli olivi ha recuperato un'antica masseria con annesse stalle e ricoveri per i cavalli. Proprio gli equini saranno i dottori del progetto. Grazie all'ipoterapia si cercherà infatti di lenire il disagio degli ospiti facendo convivere e coesistere in armonia abilità e disabilità. In questo momento nella nostra fattoria c'è una scuola di equitazione che vedrà coinvolti non solo nella scuola dei ragazzi e delle persone che diciamo così non hanno problemi se possiamo dire che ne hanno molto pochi ma coinvolgeranno anche le fasce di popolazioni più deboli, soggetti deboli dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista proprio della disabilità. Soddisfatto il presidente del Garfio d'Olivi Nicola Mercurio che già pensa ai prossimi appuntamenti delle invasioni rurali. Intervenire in questo settore grazie a un contributo dei fondi regionali che attraverso il Garfio d'Olivi sono riusciti questa struttura a intercettare è un segno tangibile di un cambiamento sul territorio. Nini Gemmato sindaco del comune di Terlizzi che fa parte del Garfio d'Olivi assieme a Bitonto e Giovinazzo sottolinea la collaborazione istituzionale fra gli enti coinvolti. Spesso e volentieri uno dei perni più importanti della collaborazione istituzionale è costituito proprio dall'iniziativa dei privati e quando l'iniziativa del privato integra anche delle azioni di carattere sociale, di interesse collettivo, la collaborazione istituzionale viene affinata e può avere e conseguire degli obiettivi importanti.